Prima acquisto ufficiale in casa bianco-verde. Si tratta di Agnese Soli, giocatrice Umbra trentenne, rimasta nel capoluogo Ibleo per due stagioni con una promozione dalla serie A2 alla A1 e la storica finale Scudetti, il primo anno della massima serie. Agnese Soli sarà insieme a Gaia Gorini la playmaker della passalacqua del campionato 2017-2018 dopo aver giocato in precedenza a Cagliari e nell'ultimo anno a Broni. Per quanto riguarda altri acquisti, la solità propenda per il mercato americano per raggiungere peso, centimetri e esperienza. Saranno due le giocatrici americane che arriveranno in casa bianco-verde. Uno dei nomi più gettonati è quello di Jessica Custer, pivot di 25 anni. Dunque, oltre alle serie conferme Elia Valerio, Gaia Gorini, Chiara Consolini, Laura Spriafico, Alessandra Formica e Assundur, ricopriranno la casacca bianco-verde Agnese Soli, due americane e una lunga italiana che prenderà il posto di Federica Brunetti. Grazie a tutti.